Sfera Entrance Panel Configurazione da T-Sfera Design In questo video useremo il modulo di parlare il lettore di pagina il modulo di pressione Usare il software di T-Sfera Inizio un nuovo progetto Compose l'entrance panel aggiungere il modulo di parlare aggiungere il lettore di pagina e l'ultimo modulo di pressione proseguire per configurare i moduli Per configurazione del modulo di configurazione del modulo clicca sul link qui sotto Qui vediamo i dettagli di configurazione del modulo di pressione e qui per chiamare il modulo di switchboard definisco il modulo di switchboard normalmente questo è P uguali 0 qui chiamare il panel P uguali 1 ora scelgo il lettore di pagina qui chiamare il modulo di operazione in modo con il modulo 0 posso usare 20 mangiamenti per registrare un passaggio di passaggio e 5 chiamati residenti per ogni appartamento in modo 1 posso usare 20 mangiamenti per registrare un passaggio di passaggio e 4,000 appartamenti per gestire 5 chiamati residenti per ogni appartamento in modulo 2 il lettore di pagina funziona coordinato dal sistema di controllo di access non è necessario l'ottore di pagina ora ho configurato un modulo di pressione ogni appartamento può chiamare un'ansett per cambiare la slide o per chiamare un passaggio l'appartamento può essere punto per punto a una address SGS o una chiamata generale in un'installazione di famiglia in un'installazione di famiglia su ogni botone ho bisogno di specificare l'appartamento relativo SGS con l'appartamento con l'appartamento ho configurato tutti i botoni con l'appartamento con l'appartamento con l'appartamento ora ho bisogno di gestire l'appartamento per impostare ogni pagina con l'appartamento aggiungo il primo nome con il plus e poi aggiungo i registri con un doppio clic inserire i dati e il termine assicurare un'appartamento relativo prima di aggiungere le pagine rilasciate prima il jumper dal modulo attraverso e connecci il cable USB rilasciate il jumper e attraverso la panela inserire la panela inserire la panela inserire la panela inserire una piccola usb plug connecci e attraverso il modulo che può registrare la panela inserire la panela la panela inserire la panela inserire la panela connecci e poi conferire il software una volta inserire un nuovo resente a cui avvicinare due chiusi chiunque e cliccare il plus inserire i registri e il secondo address inserire due caccare per aggiungere il plus la panela quando pronta posizionare la chiusura e conferire cliccare sul plus per aggiungere la seconda chiunque chiunque e conferire il software riserva e chiunque avvicinare questa fase è l'ora di mandare la panela la configurazione il software mi ricorda di pulire il jump e riservare l'unità perché ho già fatto ho inserito la plug usb e procedo con la configurazione il software troverà il panel e la configurazione muovere l'usb dal modulo sull'arte RFID card reader cliccare su next e il software troverà il modulo avvicinare i dati che permette di aprire la porta la configurazione finita uscire l'usb termine terminato questa fase proseguire il modulo nome Sticker in nomi e customizzare il pennello per lecro 1 1 2 1 2 l